Luca Crecco, si torna dopo qualche giorno di sosta, avete staccato un po' la spina, però si riparte subito forte perché è un altro scontro diretto con la Cremonese. Sì, 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 torniamo da tre giorni di sosta, personalmente mi sento bene, a me quando stacchiamo per tre giorni mi sento sempre bene. Adesso siamo pronti per fare una partita comunque difficile con una squadra forte che sta in classifica comunque alla pari nostra, diciamo, quindi sarà una partita importantissima come saranno tutte le altre, però la stiamo provando bene perché sappiamo il valore della Cremonese e vogliamo partire bene questo 2021, diciamo. Si è parlato in tua assenza di te perché il Presidente ha detto ma Crecco ha prolungato il contratto fino al 2023, andrà via soltanto se lo vuole lui o se ce lo chiede lui, però ha speso anche belle parole nei tuoi confronti. Ecco, qual è la tua posizione da questo punto di vista? Confermi anche il rinnovo? Sì, 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 ho rinnovato l'anno scorso e non ho letto l'intervista del Presidente, però mi fa piacere le parole che si dici che sono parole positive. Io sinceramente ho passato qua i primi due mesi con Oddo che non stavo bene e quindi volevo andare via, perché comunque non mi impiegava neanche negli allenamenti, quindi avevo parlato con il Presidente che io non stavo bene, però le cose poi sono cambiate, è arrivato il mister Breda con cui ho trovato spazio, un mister comunque che lavora bene, ci prepara le partite in modo giusto e mi sento comunque che partecipe nel gruppo, anche se ho fatto solamente due partite dall'inizio e le altre da subentrato, però voglio continuare a dare il mio contributo alla squadra e spero di giocare di più per dare davvero una mano alla squadra, perché comunque vogliamo levarci da questa situazione. Prima di tutto siamo tutti un po' più considerati, in secondo voi la partita viene preparata in un altro modo rispetto a prima, sappiamo con chi andiamo a giocare, prima non sappiamo con chi andavamo a giocare. È un calcio più verticale quello che vi chiede Breda? Sì, è un calcio più verticale, vuole subito la palla davanti perché giustamente il gol si fa in avanti, se torni sempre indietro è più difficile far gol, quindi più tieni la palla vicino alla porta loro e più hai possibilità di far gol. Condivido questo pensiero del mister e mi piace l'idea sua. Avete fatto uno sforzo importante per uscire fuori dalla zona play-out, ma chiaramente siamo ancora lontani, lontanissimi dall'obiettivo. Cosa bisogna fare ora per alimentare questa risalita in classifica? Sicuramente non bisogna fare più sbagli, abbiamo fatto troppi sbagli precedentemente, adesso con il nuovo mister abbiamo un'identità, sappiamo il calcio che vuole lui, infatti si è visto, comunque siamo riusciti a risalire. Adesso non possiamo più sbagliare perché non ce lo possiamo permettere e sicuramente dobbiamo iniziare già da domenica a fare una gran partita per rialzarci ancora.